buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video abbiamo diversi spunti di riflessione oggi a partire da quelli che sono gli europei intanto perché si sta avvicinando giovedì e quindi la sfida alla spagna tra l'altro leggevo l'altro giorno che è diventata una sorta di super classico delle nazionali italia spagna li abbiamo affrontati una miriade di volte negli ultimi anni ricordo tantissime gare a partire da quella finale strapersa all'europeo del 2012 dopo averli anche incontrati nella prima partita ora vedremo che cosa succederà ci sono stati anche dei dolci ricordi con la spagna abbiamo avuto anche delle partite in cui siamo stati bravi la spagna di morata tra le altre cose tra l'altro capitano morata perché morata ufficialmente il capitano della spagna nonché il giocatore insieme a cristiano ornaldo e michel platini ad aver segnato più gol nella storia dell'europeo e quindi giocatore molto molto interessante ma oltre a morata vorrei parlare anche di mbappé che probabilmente si è rotto il naso quindi nel caso lo vedremo con una maschera alla osimena all'azzorro per il resto di questo campionato europeo ma perché voglio parlare mbappé intanto perché la francia vinto per una zero ha faticato anche abbastanza in realtà poteva vincere con un po più di scarto sarebbe bastato un po di freddezza sotto porta proprio a parte mbappé su una palla meravigliosa servita da adrien rabiot partiamo da rabiot per iniziare ad organizzare questo video tanto rabiot che ha giocato in una mediana composta da lui cantè e grisman che praticamente faceva il tutto campista grisman è un giocatore del quale sono profondamente innamorato da sempre un giocatore meraviglioso un giocatore che mette tutto se stesso a disposizione della squadra e per me è sempre un esempio vedere giocare grisman poi se di fianco c'è appunto cantè e poi ti viene da chiederti perché mai questo ha dovuto andare a giocare in arabia solo soldi ha perso le ambizioni cioè questo è ancora un giocatore forte determinante lo abbiamo visto anche questa sera e ha giocato abbastanza bene discretamente bene pure adrien rabiot che poi è stato sostituito diciamo che la francia ha una rosa lunga e qualitativa e quindi non stupisce non sorprende anche perché ribadisco gli altri componenti del centrocampo erano giocatori posso dire leggendari perché sia grisman che che cantè sono giocatori che sono stati determinanti anche nella conquista del mondiale che hanno perso una finale di un europeo in casa e che quest'anno cercheranno di portarsi a casa quello che gli è stato sottratto dal portogallo di cristiano ronaldo e allora da rabiot voglio partire immaginandomi anzi chiedendovi secondo voi cosa sta succedendo intorno a rabiot perché è vero che ufficialmente è ancora un calciatore della juve ma tra 13 giorni il suo contratto scadrà questo è un bel problema perché rabiot potrebbe terminare magari vincendo questo europeo da svincolato perché l'europeo continuerà fino a metà luglio quindi tra 13 giorni rabbio sarà senza nessun tipo di divisa cucita addosso è una situazione che non sorprende perché anche l'anno scorso in realtà eravamo arrivati bene o male a questo punto sembrava anche abbastanza difficile vedere il rinnovo di rabbio e la permanenza di rabbio a torino poi a un certo punto è arrivato questo messaggio sui social postato da juventus proprio da parte di rabbio che annunciava un inedito e anche curioso rinnovo annuale e ora eccoci qua di nuovo punto e a capo a parlare di quello che è il rinnovo di rabbio tra l'altro questa cosa mi fa ridere perché lo scorso anno mentre ero in aeroporto ricordo di aver caricato un video in cui parlavo del rinnovo di federico chiesa in cui dicevo bene o male le stesse cose che penso oggi e cioè per me chiese da rinnovare è un giocatore che va rinnovato per forza di cose poi è ovvio che non bisogna svenarsi se chiede se chiesa ti chiede 7 8 milioni di euro all'anno dispiace tanto non non è compatibile con quella che è la nuova politica della juventus ma lo stesso chiesa lo sa benissimo e io aggiungo all'interno di quest'annata difficilmente dei calciatori potrebbero avere la faccia tosta di venire a chiedere l'aumento per quella che è stato il rendimento nella seconda parte di stagione credo proprio che si troverebbe una bella porta sbattuta in faccia e anche giustamente perché poi certe cifre vanno meritate sul campo la juventus si è dimostrata una squadra che che troppo aveva fatto troppo poco per essere una squadra vera quindi credo che nessun giocatore della juve possa avere la faccia tosta di chiedere più soldi non so se questa è la sensazione di chiesa però l'anno scorso parlavo di un caso simile di bala dicevo non vorrei mai che potesse inventare una telenovela e lo sta diventando quindi dato che stanotte anzi quando voi vedrete il video io l'aeroporto l'avrò già passato quest'anno ho deciso di preparare il video preventivamente a distanza di un anno ancora in ferie cosa si parla del rinno di chiesa e del rinno di rabbio perché mi ricordo che l'anno scorso mentre ho letto del rinno di rabbio mi stavo mangiando una una buona granita pantelleria quindi sono tematiche che sono diventate una sorta di di tappa fissa delle stati juventine quindi la domanda che vi faccio è ma secondo voi rabbio si sta aspettando perché cioè tiago motta lo sappiamo è un estimatore ha già detto che lo vorrebbe rinnovare però però che cosa c'è rabbio e douglas luiz sono davvero un alternativo all'altro oppure no cioè perché c'è stata anche la voce secondo la quale a un certo punto l'eventus si sarebbe spazientita di questa attesa di rabbio e sarebbe andata dritta su douglas luiz cosa potrebbe significare questo che rabbio sta giocando un po il gatto col topo cioè dice sai che cosa io intanto ho la proposta della juve però se mi faccio il mio europeo tranquillo arriva una squadra che magari preferisco io quella proposta all'instand by la vado ad archiviare la metto nel cestino e accetto un'altra non proprio il migliore dei modi per dimostrare affetto e serietà e amore nei confronti del club per il quale giochi no anche perché ribadisco il nuovo annuale sempre una soluzione anzi è una soluzione che a me non è mai piaciuta non pensavo nemmeno potesse essere un rinnovo progettuale ma questa cosa è accaduta l'anno scorso eppure siamo ancora qui a discutere questa roba tra l'altro sul centrocampo bisogna fare un bel discorso perché ripeto rabbio magari se sta guardando intorno sta aspettando l'offerta giusta da un altro club non lo so però c'è un altro giocatore della juve in uscita oltre a healing nel pacchetto c'è pure mckenny perché douglas luis dovrebbe arrivare alla juve e tra l'altro non solo lui perché si parla anche di alicia lehman che è la sua compagna che andrebbe a dare manforte alle women e non solo perché sarebbe un'operazione anche di marketing di una certa rilevanza perché la compagna di douglas luis è molto seguita sui social quindi sono cose che la juventus deve prendere in considerazione per quello che è il mondo di oggi mi ha fatto un po' sorridere questa storia perché nel pomeriggio di ieri tutti erano impazziti si leggevano tantissime voci della serie è saltato tutto mckenny ci ha ripensato non ha trovato l'incastro non ha trovato l'intesa mckenny fa saltare tutto e poi andava a leggere l'articolo e c'era scritto che per il momento mckenny e la stoneville ancora non hanno trovato la quadra dal punto di vista economico ma che con il passare del tempo anche in relazione alle commissioni che dovrebbero percepire gli agenti poi la trattativa dovrebbe riuscire a sbloccarsi allora perché preoccuparsi inutilmente dico io poi magari ci sarà un'interruzione davvero mckenny non riuscirà a trovare l'incastro però ad oggi se è soltanto una roba del della serie ok dobbiamo parlare dobbiamo cercare di capire dobbiamo incastrare io non credo che la juve abbia fretta è in questo momento di chiudere douglas luis c'è la fretta più che altro c'è la stoneville la stoneville che deve chiudere entro il 30 di giugno quindi diventa importante per quello che io immagino che questo potrà essere uno dei primi colpi chiusi dalla juve e ora tocca a mckenny essere bravo e accettare questa proposta anche perché dall'altra parte mckenny era stato proposto il rinnovo alla juventus lui non ha voluto perché riteneva la cifra proposta troppo bassa vuole più soldi torniamo al discorso di prima pochi se lo meritano rinnovo la juve al rialzo in questa stagione anche mckenny che è stato per me uno dei migliori in assoluto anche se poi nella seconda parte ha faticato tanto perché aveva dato troppo nella prima però vedi è un po la situazione di rabbio dell'anno scorso cioè sia rabbio che mckenny arrivano agli sgoccioli dei loro contratti con la juve e tirano fuori una grandissima stagione l'anno scorso rabbio era andato in doppia cifra di gol tantissimi astri quindi giocatori determinati mckenny quest'anno che scade 25 si deve discutere il rinnovo stagione forse migliore anche dal punto di vista della maturità da parte di mckenny non vuoi rimanere la juve perché l'ingaggio proposto è troppo basso nessun tipo di problema va benissimo però poi allora devi portarmi la soluzione tu mckenny se non vuoi rimanere la juve perché è un problema per la juve e la premier è una soluzione mckenny ha già giocato anche in premier con il lis che è retrocesso e che non ha riscattato perché c'era l'obbligo di riscatto di mckenny intorno ai 35 milioni perché non si è salvato la stone villa è la squadra che gioca in champions quindi anche dal punto di vista proprio dell'appeal delle due squadre se mi vai a accettare a gennaio il lis e poi non mi vai a accettare in estate la stone villa uno che retrocede l'altro che gioca la champions all'interno della premier league entrambe iniziere ad avere un pochettino di non lo so di pensieri in testa da dire ma qual è la logica dietro questa roba qui cioè non sto comprendendo io c'è qualcosa che non si incastra quindi per il momento io non mi preoccupo so che la juve vuole lavorare molto molto bene a centrocampo dovesse saltare no di rabbio ho letto che si parla ancora una volta di turam fratello di marcus figlio di lilian profilo molto interessante che però per me costa tanti soldini ancora una volta stiamo parlando dei giocatori francesi una francia che forse ci aspettava un po di più ma che rimane il pericolo pubblico numero uno per questo europeo ragazzi fatemi sapere un po le vostre considerazioni sotto nei commenti il centrocampo diventa il punto focale del discorso ma come potete vedere anche i rinnovi perché c'è lo stesso scese nel scadenza 25 lì sì che c'è stata una frenata vera e propria nei confronti del della rabbia e quindi bisogna vedere un attimino a un altro nome che si fa per il possibile poster rabbio in caso di non rinnovo è quello di fofana che conosco veramente poco per il momento ma se dovesse diventare un nome importante poi andremo a fare tutte le analisi del caso come abbiamo già fatto tra l'altro per douglas luiz ragazzi questo è tutto ve l'avevo già detto ma adesso è ufficiale ciao